A Piacenza l'utilizzo delle bici è un must, ma c'è anche chi arriva in città e per farsi un giro utilizza il servizio pubblico di bike sharing, ovvero di biciclette condivise. In città sono presenti tre servizi differenti, Mi Muovo è quello più recente finanziato dalla regione. Le biciclette verdi sono 63, concesse e incomodato d'uso al comune e presenti in quattro postazioni, Via Le Malta, Via 4 Novembre, Via Cavour e Stazione. Gli iscritti al servizio sono 130 e i prelievi quotidiani in media risultano 10. Le altre due opzioni sono più datate, si tratta di Park & Beach, che comprende 64 biciclette modello Graziella dislocate al deposito della stazione ferroviaria e centro in bici, con 29 biciclette rosse presenti in Via Le Malta, Via 4 Novembre, Via San Donnino e in stazione. 200 le chiavi consegnate dal comune. Alla nostra redazione sono arrivate segnalazioni relative allo stato di usura delle biciclette rosse. E in effetti possiamo constatare che queste biciclette non sono custodite sicuramente nel migliore dei modi. Molti telai sono arrugginiti e ci sono evidenti segni di nanneggiamento. Interpellato sulla questione, l'assessore Giorgio Cisini fa sapere che le biciclette del servizio centro in bici sono molto datate e il comune sta valutando la possibilità di coinvolgere nella manutenzione le associazioni di volontariato che hanno dato la loro disponibilità. Se così fosse, spiega Cisini, il recupero delle bici avrebbe anche una finalità sociale. In passato era stato annunciato il trasferimento di alcuni servizi di bike sharing nelle zone universitarie. È un'idea che non abbiamo abbandonato, conclude Cisini, ma al momento non ci sono i fondi per il trasferimento.